ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it quest'oggi parleremo di un argomento puramente teorico affronteremo il tema di che cos'è il suono cos'è il segnale audio digitale come funziona non apriremo premiere lo dico subito non metteremo mano all'interfaccia di adobe premiere perché prima di vedere come si gestisce il suono in adobe premiere vorrei darvi gli strumenti per comprendere quello che stiamo facendo ovvero darvi gli strumenti per poter comprendere almeno i termini la terminologia utilizzata quando lavoriamo con il suono vi ricordo ovviamente il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutte le lezioni fatte e che faremo di questo corso introduttivo ad adobe premiere 2019 sito dove troverete anche gli articoli legati alle singole lezioni vi ricordo e vi consiglio se avete voglia di iscrivervi a questo canale youtube per non perdere i prossimi video tutorial e iniziamo subito parlando di suono che cos'è il suono come funziona il suono a cosa ci riferiamo quando parliamo di suono ecco il suono non è altro che il risultato di una perturbazione dell'aria dell'acqua di un qualunque mezzo che poi il nostro cervello interpreta appunto come suono detta così è un complicata allora facciamo un esempio ipotizziamo di prendere un sassolino ok e di lanciarlo in uno stagno che cosa vedete cosa vedreste ecco quello che i vostri occhi vedrebbero è la creazione la generazione di alcune forme d'onda che il sassolino genera nel momento in cui impatta con l'acqua quindi genera delle increspature nell'acqua stessa ecco quando noi parliamo di suono quando generiamo un suono con la nostra voce o qua anche con le vostre le vostre casse del vostro computer accade più o meno la stessa cosa solo che ad incresparsi non è l'acqua a meno che voi non stiate parlando dentro l'acqua ma è l'aria che vi circonda spiegato ancora più semplicemente quando voi muovete le labbra e fate vibrare la vostra le vostre corde vocali sostanzialmente create una perturbazione nell'aria che vi circonda l'aria si espande si contrae generando delle onde queste onde poi viaggiano arrivano al vostro orecchio arrivano al vostro timpano fanno vibrare una membrana presente nel vostro orecchio che a sua volta fa vibrare degli ossicini che trasportano il segnale tramite dei nervi al vostro cervello cervello che poi è abbastanza preparato dal trasformare queste vibrazioni in qualcosa di udibile che poi voi chiamate suono spiegato semplicemente questo suono parlando di questo argomento non possiamo non parlare di onda perché abbiamo visto che il suono viene trasportato o meglio viene generato grazie ad un'onda che increspa una sostanza che può essere come detto l'aria o l'acqua e che poi il vostro cervello il vostro orecchio capiscono interpretano come suono quindi che cos'è un'onda ecco non la vediamo qui davanti ho preso questa immagine da internet ma è abbastanza semplice per spiegare innanzitutto come come funziona un'onda un'onda come potete vedere ha una larghezza ovvero la distanza tra due creste ha un'ampiezza che è sostanzialmente la distanza tra il punto di neutralità e il punto massimo della vetta e chiaramente ha un'oscillazione ovvero una frequenza questo è un'oscillazione ok in quanto tempo però in un secondo chiaramente ogni secondo un'onda fa un tot numero di oscillazioni a seconda del numero di oscillazioni che fa l'onda noi parleremo di frequenza dell'onda cosa vuol dire vuol dire che se quest'onda facciamo conto fosse stata prodotta e occupasse un secondo di tempo noi avremo una frequenza di 12 ok una frequenza di due oscillazioni al secondo questo concetto di oscillazione è molto importante perché quando parliamo di suono a livello poi più più pratico il numero di oscillazioni al secondo vale a dire la frequenza dell'onda genererà un suono più grave o più acuto facciamo un esempio aprendo adobe audition ci troviamo in adobe audition come potete vedere davanti ai vostri occhi avete un'onda simile a quella che abbiamo visto rappresentata poc'anzi vi dico subito che quest'onda ha una frequenza di ben 44 hertz cosa vuol dire vuol dire che ogni secondo quest'onda ha 44 oscillazioni come abbiamo visto prima sostanzialmente c'è oscilla 44 volte a una frequenza di 44 cosa vuol dire in termini pratici vuol dire che se io vado a premere play sul la mia tastiera e vado a mettere in play questo suono ecco quello che sentirete non è detto che voi lo abbiate sentito perché 44 hertz è una frequenza veramente molto bassa normalmente sì normalmente una frequenza di 44 hertz viene riprodotta correttamente dai principali impianti casalinghi ma per scrupolo alziamo un po la frequenza proviamo una frequenza di 220 oscillazioni al secondo vedete che il numero di oscillazioni aumenta sono sempre o sempre un'onda sinusoidale si chiama un'onda creata in questo modo generata in questo modo ma il numero di oscillazioni ogni secondo non è più di 44 ma è di 220 vuol dire che ogni secondo quest'onda oscilla 220 volte ascoltate il risultato vedete che è sicuramente un suono più acuto rispetto a prima esageriamo andiamo a vedere com'è un'onda di ben 2200 oscillazioni al secondo ecco vedete che è molto più densa rispetto a prima si vado ad ingrandire trovo sempre l'onda di prima però la frequenza di oscillazione di quest'onda è aumentata non è più di 44 hertz non è più di 220 hertz ma è di ben 2200 hertz ascoltate il risultato ecco qua quindi sostanzialmente semplificando abbiamo visto che la frequenza di un'onda sonora determina quanto quel suono è grave o acuto questo è molto importante quando parliamo di suono perché vedremo soprattutto quando faremo tutorial di adobe audition nei prossimi mesi è un suono complesso non un suono così semplice come quello che abbiamo qui davanti è composto da più frequenze agendo sulle frequenze dei bassi dei medi e degli alti andremo chiaramente a migliorare a modificare quello che poi ascolteremo come il risultato come risultato finale un'altra caratteristica di una forma d'onda come abbiamo detto è l'ampiezza l'ampiezza non è altro che la distanza da un punto dal punto neutro quindi dal punto in cui sostanzialmente non c'è suono fino al punto massimo dell'onda all'altezza massima dell'onda per intenderci da questo valore a questo valore questa questa caratteristica di una forma d'onda ne determina il volume se vogliamo chiamarlo in questo modo ora questa è un'onda che diciamo come come picco massimo ha un volume di meno 12 decibel ma io posso andarla ad aumentare posso aumentare l'ampiezza di quest'onda e come risultato vedrete un'onda che sostanzialmente ha un volume più alto facciamo una prova questa era la forma d'onda originale vedete che modula intorno a meno 12 db aumento il volume di quest'onda quindi ne aumento l'ampiezza vedete che il volume sostanzialmente è cambiato quindi questa è l'ampiezza dell'onda ho preciso che sto facendo un discorso veramente molto terra terra probabilmente sto semplificando molto quindi se tra chi mi ascolta c'è un ingegnere del suono un fisico qualcuno che ha probabilmente più competenze di me in materia di suono e di acustica non si faccia problemi a commentare questo video magari ad integrare ad aggiungere a dare maggiori spiegazioni anche a chi ne sa meno di noi sto cercando di trasmettere dei delle conoscenze dei concetti in maniera il più terra terra semplice possibile per dare in modo a tutti di comprendere quanto stiamo dicendo sono concetti semplici e sono sostanzialmente concetti se volete indispensabili per lavorare con il suono sono veramente l'abc poi bisognerebbe dire tante altre cose ma noi andiamo avanti altrimenti poi diventerebbe una lezione su di acustica e non è questo la mia intenzione anche perché chiaramente non ne ho piene piene competenze o abbiamo visto un'onda come questa sino solidale che genera un suono fisso sostanzialmente ok ma voi tutti sapete bene che quando parlate o quando ascoltate un brano musicale non è che sentite un suono così costante così puro si dice ma sentite un suono più complesso ecco e quando parliamo di suoni più complessi ad esempio questo che è un suono di una voce umana della mia voce è chiaramente all'interno di quest'onda ci sono le caratteristiche che abbiamo visto prima perché se vado ad ingrandire vado a trovare un'onda che non è più sino solidale come prima ma è un'onda caratterizzata anche qui da punti di altezze da frequenze e compagnia bella il problema è che qui ci sono più frequenze che entrano in gioco non c'è solo la sequenza la frequenza 44 hertz la frequenza 220 hertz sono più frequenze che sommate l'una all'altra vanno a caratterizzare quello che è il timbro del suono il timbro non è altro che se volete il colore un trombone suona diversamente da un pianoforte un pianoforte ancora suona diversamente dalla mia voce la mia voce suona diversamente dalla voce di qualcun altro perché questo perché il suono prodotto dalla mia voce da un trombone da un pianoforte portano con sé delle frequenze differenti l'uno dall'altro e di conseguenza l'onda finale sarà ovviamente diversa l'impronta sonora sarà ovviamente diversa quindi se questa è un'onda sinusoidale caratterizzata da un'unica frequenza in questo caso a 88 hertz quindi 88 oscillazioni per secondo la voce umana ovviamente ha molte frequenze che la compongono e anche la forma d'onda sarà differente queste sono sono concetti diciamo veramente veramente semplici 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 e introduttivi ma quando parliamo di audio digitale di cosa stiamo parlando perché sto facendo questa introduzione così secondo me importante all'argomento che stiamo affrontando in questo corso che poi sostanzialmente è adobe premiere 2019 perché noi quando lavoriamo con premiere o quando lavoriamo con qualunque software di montaggio video o anche qualunque software di audio noi non abbiamo a che fare con un audio cosiddetto analogico che quindi può essere la voce mia che si propaga semplicemente nell'area e che raggiunge un timpano di un orecchio di qualcuno ma abbiamo a che fare con dei segnali sonori digitali e questo è un concetto importantissimo il concetto di digitale cosa vuol dire digitale è una parola che sentiamo spessissimo spessissimo in televisione nei telegiornali bisogna digitalizzare l'archivio bisogna fare passi avanti nella digitalizzazione del paese cosa vuol dire digitale digitale sostanzialmente è qualcosa che ha a che fare con i numeri ok siamo siamo al punto di partenza cosa vuol dire per spiegarvi cosa significa digitale vi spiego cosa significa analogico ok analogico che può essere inteso come il contrario di digitale è qualcosa di continuo facciamo un esempio tra il numero 0 e il numero 1 in matematica potrebbero esistere valori pressoché infiniti vuol dire che esiste 0,00000001 0,00000002 e così discorrendo praticamente all'infinito perché nel mondo analogico tra due valori possono esistere infiniti sottovalori ok nel mondo del digitale non è così il mondo digitale è un mondo discreto cosa vuol dire discreto vuol dire che tra 0 e 1 non è detto che esistano anzi non non è detto non esistono infiniti valori esistono valori finiti possono essere tantissimi valori finiti ma sempre valori finiti sono quindi tra 0 e 1 potreste trovare 0 0,5 e 1 oppure potreste trovare 0,1 0,2 0,3 e così via dicendo fino ad 1 o ancora potreste trovare 0,01 0,02 e così via fino ad arrivare ad 1 questo è il mondo del digitale è un mondo discreto è un mondo a pacchetti è un mondo di quanti passatemi questa parola è un mondo che non ha informazioni infinite ma come detto ha informazioni discrete questo come si trasforma nel nostro discorso riguardante il segnale sonoro ecco si trasforma in questo modo che un segnale sonoro analogico è un segnale sostanzialmente composto da informazioni infinite no se voi poteste visualizzare un'onda analogica troverete valori infiniti che compongono questa curva ma questo è un suono digitale quello che visualizzate qui è un suono digitale cosa vuol dire che è un suono digitale è un suono che se io adesso lo vado ad ingrandire ancora vedrete che quest'onda è composta da microscopici pacchetti di informazione ecco lì questi pacchetti di informazione sostanzialmente sono i valori che quest'onda assume ogni tot di tempo ok cosa vuol dire vuol dire che quest'onda non è composta da valori infiniti ma è stata quando è stata digitalizzata quindi resa suono digitale composta e costruita con microscopici pacchetti di informazione questi microscopici pacchetti di informazione sono i campioni cosa vuol dire cosa vuol dire semplifico ipotizziamo che io stia parlando ad un microfono e la mia voce sta facendo vibrare l'aria ok la mia voce fa vibrare l'aria per quote una membrana presente dentro il mio microfono che poi trasforma le vibrazioni in un segnale elettrico che arriva al mio computer alla scheda audio che a sua volta trasforma questo segnale elettrico in altre informazioni e lo manda al mio processore e lo trasforma in un suono digitale ok ma in quanto suono digitale come detto l'informazione non può essere composta da pacchetti infiniti ricordate 0,000 no l'informazione digitale è discreta quindi quando io vado a campionare la voce un suono analogico per trasformarlo in digitale sostanzialmente lo vado a campionare vuol dire che facciamo un esempio semplicissimo il mio computer registrerà la mia voce non in maniera continua ma registrerà la mia voce un tot numero di volte al secondo quindi catturerà informazioni sulla mia voce non in maniera continua ma un tot numero finito di volte ogni secondo ecco il numero di volte il numero di campioni se volete che viene catturato dallo strumento che digitalizza ogni secondo viene chiamato frequenza di campionamento quindi quando parliamo di frequenza di campionamento di campionamento non stiamo parlando della frequenza che abbiamo visto prima che riguarda l'onda sonora di per sé ma stiamo parlando del numero di volte in cui viene catturato catturata l'informazione sonora è trasformata in valori digitali chiaramente più volte un suono viene catturato al secondo maggiori saranno le informazioni presenti e maggiore sarà la qualità non è molto chiaro è vi faccio ascoltare un esempio e adesso capirete subito in questo esempio io ho catturato la mia voce registrandola 8000 volte al secondo vuol dire che la forma d'onda sonora che vedete qui davanti è stata costruita registrando la mia voce campionando la mia voce 8000 volte ogni secondo questo è il risultato prova microfono con una frequenza di campionamento a 8000 hertz che cosa vuol dire vuol dire che sentite chiaramente una voce tutta ottufata tutta chiusa di una qualità sicuramente non perfetta perché perché il mio computer ha registrato la mia voce 8000 volte ogni secondo e probabilmente 8000 volte un secondo è un numero di una frequenza di campionamento molto bassa per un prodotto ovviamente di qualità il telefono se non ricordo male campiona la voce 8000 volte al secondo potrei aver sbagliato ma se non è 8000 e poco di più facciamo un altro esempio ho registrato la stessa frase con una frequenza di campionamento di 16000 volte ogni secondo vuol dire che questa volta il mio computer ha registrato la voce la campionata ben 16000 volte ogni secondo ascoltate prova microfono con una frequenza di campionamento a 16000 hertz eccolo è migliore rispetto a prima eh prima era così prova microfono e adesso è così prova microfono è un pochettino più chiara è un pochettino più completa la mia voce andiamo avanti utilizziamo lo standard che viene utilizzato nel video che altro non è che 48000 campioni ogni secondo ascoltate prova microfono ad una frequenza di campionamento a 48000 hertz è sicuramente una voce con una qualità maggiore questa è la frequenza di campionamento perché è importante conoscerla quando lavorate con premier perché quando si lavora con l'audio digitale ovviamente bisogna lavorare ad una frequenza di campionamento il più alta possibile lo standard per il video normalmente normalmente è di 48000 hertz vuol dire che bisogna registrare i segnali campionarli 48000 volte ogni secondo è chiaro che se dovete registrare in uno studio di registrazione professionale voi dovete registrare alla maggiore qualità possibile perché a scendere si fa sempre in tempo ma poi a salire se non si hanno le informazioni assolutamente no io se prendo la mia voce a 8000 la vado a trasformare a 48000 non è che la miglioro perché ormai le informazioni quelle sono ecco non è che si possono creare informazioni dal nulla l'informazione si può trasformare ma creare in questo caso proprio no quindi è importante sapere che quando andrete a creare un progetto audio o in audition o in premier o in qualunque software che gestisca il suono dovete creare una frequenza di campionamento il più alta possibile per poi ovviamente scendere quando andrete ad esportare allo standard di riferimento che per il video è 48000 c'è un'altra caratteristica importante nel suono digitale che è la profondità di beat qui è complicata cosa vuol dire guardiamo questa onda ok è come detto composta da campioni ok che messi l'uno vicino all'altro tutti insieme diventano un'onda in questo caso l'onda della mia voce ok però chiaramente questi campioni portano con sé un valore in questo caso un valore di al di di ampiezza di onda ok guardate questi numeri questo è l'infinito c'è un silenzio più totale la linea rossa che vedete e poi nell'audio digitale si va indietro fino ad arrivare allo zero che è il numero più alto raggiungibile nella scala dei decibel nell'audio digitale per intenderci tutto ciò che supera lo zero viene distrutto a un suono si dice che viene distorto dicevo questi campioni chiaramente portano con sé un valore no in questo caso il valore dell'altezza del suono ok ma qui si pone un altro problema è quanti valori possono esistere in decibel ad esempio tra un decibel e due decibel tra due decibel e tre decibel ci risiamo è vi ricordo che stiamo lavorando in digitale quindi tra un'altezza di due decibel è un'altezza di tre decibel non esistono valori infiniti ci risiamo esistono sempre valori discreti perché lavoriamo in digitale ecco la quantità di informazioni presenti in questi campioni è determinata dal numero di bit più bit vengono utilizzati per registrare questa informazione più chiaramente questo campione potrà avere valori diciamo precisi faccio l'esempio se questo è un valore questo è un campione che ha un'altezza non è vero ma facciamo finta che abbia un'altezza di 12,15 decibel questo è un valore che potrebbe avere un campione che potrebbe avere un valore di 12,20 decibel ecco più abbiamo un numero di bit elevato più possiamo attribuire a questi campioni dei valori precisi se facciamo un esempio se lavoriamo ad un valore basso di bit questo valore potrebbe avere magari o 12 decibel o 13 decibel o 14 decibel se aumentiamo il numero di bit questo valore potrebbe avere 12,1 12,2 12,3 e via discorrendo quindi sostanzialmente la profondità dei bit è importante per poter fare in modo che i campioni della nostra forma d'onda abbiano dei valori il più diciamo accurati possibili vedete che c'è una griglia in questa in questa rappresentazione ora non è una griglia proprio diciamo precisa però per intenderci più il numero di il valore dei bit è elevato più questa griglia è fitta e questi valori possono assumere dei valori precisi più il numero di bit è basso più i valori che possono assumere questi campioni chiaramente è minore e inferiore e la qualità del suono viene pregiudicata ok non vado oltre spiegando in che modo perché qui diciamo che entriamo veramente molto nel tecnico e non è mia intenzione qui entrare nel tecnico però ecco per darvi un'idea di cosa ci riferiamo quando parliamo di bit nella nella campionatura di un segnale audio normalmente si usa lavorare per esempio per un cd audio ad un 16 bit per l'audio diciamo digitale per i master digitali normalmente si lavora a 32 bit ok quando lavorate in premier chiaramente anche qui cercate di lavorare soprattutto quando dovete lavorare in funzione poi di un'altra persona che lavorerà il vostro audio lavorate ad un numero di bit elevato no perché poi la persona che dovrà lavorare il vostro audio avrà la possibilità di avere ma molte più informazioni per lavorare il suono delle vostre composizioni multimediali o un'altra caratteristica l'ultima che affrontiamo quest'oggi che riguarda il suono riguarda la stereofonia un suono può essere mono o può essere stereo che cosa vuol dire vuol dire che facendo facendo un esempio proprio pratico terra terra il suono può essere riprodotto in maniera identica sia nella cassa sinistra sia nella cassa destra del vostro impianto oppure può la cassa sinistra la cassa destra del vostro impianto possono avere portare con sé informazioni differenti e quindi avere un senso anche di spazialità se volete facciamo un esempio visivo come vedete quest'onda è un'onda che ha informazioni sul canale sinistro e un informazioni sul canale destro quindi questo è un segnale audio stereo ok perché la stessa onda sonora viene riprodotta su due canali audio ma potremmo avere a che fare anche con campioni audio mono facciamo un esempio pratico insieme così vi faccio vedere cosa intendo creiamo un suono lo chiamiamo mono a 48 mila hertz di frequenza una profondità di bit a 32 bit lo facciamo mono ok guardate guardate cosa accade registriamo prova registrazione segnale mono ecco qua vedete che non ho più due canali audio come per il suono stereofonico ma ne ho soltanto uno che andrà al centro come si dice in ugual misura sia alla cassa sinistra che alla cassa destra ma in realtà non c'è qui distinzione di canale è un unico canale che voi potete mandare sostanzialmente dove volete o per il momento mi fermo queste sono veramente informazioni introduttive se avete voglia informatevi bene su google cercate studiate perché chiaramente quando lavorerete il segnale audio in premier più siete consapevoli di quello che fate migliori saranno i risultati che riuscirete ad ottenere nella prossima lezione andremo avanti parleremo aprendo premier questa volta ma parleremo ancora di un argomento un po teorico che riguarda la differenza tra canale e traccia ed è un argomento importante per me perché spesso sento fare confusione fra questi due termini nelle prossime lezioni poi come anticipato parleremo di come fare le dissolvenze audio come fare i volumi tutto quanto in adobe premiere riprendiamo il nostro corso in adobe premiere come da copione iscrivetevi iscrivetevi a questo canale youtube se volete continuare a seguire questo corso e non perdervi i prossimi tutorial venite a trovarmi sul sito internet www.fabioambrosi.it dove troverete anche l'articolo di questa lezione e se tra chi mi ascolta c'è un ingegnere del suono c'è qualcuno che ha competenze dimostrabili di fisica vuole aggiungere qualcosa a quanto detto in questo in questo tutorial o vuole correggere qualche imprecisione che sicuramente ci sarà perché sto cercando di semplificare tanto un argomento che è veramente molto più complesso di così può commentare questo video e perché no dare altre informazioni a i tanti di tanti che stanno seguendo questo questo corso e che ringrazio veramente tanto per i bei messaggi che mi state inviando ogni ogni giorno al prossimo tutorial grazie ciao